Musica Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa di questo venerdì 5 di maggio. Cominciamo subito andando a vedere quali sono i titoli della prima pagina del Corriere della Sera. Intanto lo scontro sui migranti, lo scontro tra Italia e Francia, un nuovo scontro diplomatico. L'attacco questa volta arriva dal ministro dell'interno francese che dice Meloni non sa gestire i problemi migratori sulla base dei quali era stata eletta. Sono parole inaccettabili, replica offeso il ministro degli esseri italiano Tajani che ha cancellato la visita a Parigi. Dura la risposta anche dal PD, pensi ai suoi problemi, faccia fare a noi, dice l'opposizione. E poi c'è anche l'intervista di Marco Galluzzo a Tajani. Parigi è in imbarazzo, ora devono scusarsi. Sì alle nomine RAI, ma sulle nomine il governo è diviso. Le nomine dei nuovi capi di Polizia e Guardia di Finanza che erano attese per il Consiglio dei Ministri di ieri sono slittate e la maggioranza si è divisa sui nomi di Lamberto Gianni, Vittorio Pisani e Andrea De Gennaro. Via Libera al passaggio invece di Carlo Fuertes al Teatro San Carlo. Nello stesso Consiglio dei Ministri c'è stato anche un blitz del governo che ieri ha commissariato con un decreto legge l'Inps e l'Inail rimuovendo così gli attuali vertici in vista di nominarne di nuovi. Salta quindi il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, l'economista messo alla guida dell'ente di previdenza pubblica nel 2019 dal governo Conte I. Oltre a Tridico decade anche il presidente dell'Inail, l'Istituto di Assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro, Franco Bettoni. E poi vediamo i tassi della BCE che decide un altro rialzo, un altro mini rialzo, troppa inflazione, nuovo rialzo dei tassi. La decisione è stata annunciata ieri dalla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che non ha smentito le previsioni per troppa inflazione. A centro pagina la fotonotizia ovviamente dedicata alla festa del Napoli, campione di Italia e i festeggiamenti per questo scudetto e la festa che arriva in anticipo sulla chiusura del campionato. E poi volevo segnalarvi anche a fondo pagina il caffè di Massimo Gramellini, che si occupa del viadotto, il viadotto Ortiano, che appunto ieri è crollato in provincia di Cosenza, costruito appena nove anni fa, sbriciolato, si scrive Gramellini, come un cracker. Dopo una giornata di pioggia il viadotto Calabrese fa parte di una strada che appunto ha avuto inizio intorno al 1970, non conosce ancora la fine, pur avendo già fatto in tempo a ingoiare decine di milioni di euro. Ma per fortuna non è successo niente perché appunto soltanto pochi giorni fa un funzionario dell'ANAS, Francesco Caporaso, aveva chiuso il traffico a causa appunto delle condizioni critiche del viadotto. Andiamo sul Corriere Fiorentino. In prima pagina il terzo incidente in 17 giorni per quanto riguarda i treni. Un regionale senza passeggeri è uscito dai binari a Romito, pesanti ritardi, stazione nel caos. Oggi ci sarà un sopralluogo dell'Agenzia per la Sicurezza con comitanze da chiarire. Il Presidente Gianni dice che lo Stato deve investire sulla manutenzione. Poi ancora il processo d'appello da rifare per l'infermiera delle morti in ospedale, Fausta Bonino, l'infermiera di Piombino, accusata di aver ucciso con leparina alcuni pazienti. Il processo da rifare lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha annullato l'assoluzione della Corte d'Assise d'appello per le quattro morti sospette. E poi il rigassificatore via ai primi test, il cortocircuito dei permessi perché la metaniera che rifornirà, la Golar Tundra, ancora mancano alcuni documenti. Ma intanto oggi il Ministro Picchetto Fratin insieme al Governatore Gianni sarà all'avvio delle operazioni. E poi torno in prima pagina con la fotonotizia che è dedicata alla sfilata di Pucci in riva all'Arno con la sua storia, il ritorno a casa e un omaggio a Firenze dove ha preso in via la creatività rivoluzionaria del principe delle stampe. Ieri la Maison Pucci ha presentato alla società Canottieri la collezione Primavera Estate 2023 in una scenografia da cartolina con la prima modella arrivata a bordo di un barchino storico al tramonto davanti a 250 invitati. Andiamo alla cronaca aretina e siamo alla prima pagina della Nazione di Arezzo. Le aziende a caccia di 8 mila dipendenti. Questa l'apertura sulla previsione del fabbisogno nell'analisi di Excelsior Union Camere, il boom delle richieste per gli specializzati, il monitoraggio sulle previsioni del fabbisogno delle imprese disegna una realtà aretina dove nel mese di aprire le nuove assunzioni previste sono 2.620. A centropagina Gino e i nazisti, il racconto del mio incubo Gino Massetti era un ragazzo il 27 giugno 1944, lo racconta appunto. Poi nelle pagine interne racconta la strage sempre nei miei incubi e i soldi non cancellano l'orrore perché non ha mai chiesto risarcimenti. In taglio alto vediamo Gianni che spinge su Medio Etruria e dice confermo si faccia a Rigutino ma su questo vediamo il servizio sulla visita di ieri del governatore Gianni ad Arezzo nella sala dei grandi del palazzo della provincia. È stato accolto da autorità, forze dell'ordine, categorie economiche e rappresentanti del mondo politico. Il governatore Gianni ha scelto Arezzo come quarta tappa del suo percorso di ascolto. Incalzato dai giornalisti ha subito affrontato le questioni della sanità dichiarando che i fondi ci sono. Devo dire che abbiamo concentrato con i manager Asle per Asle l'attenzione su due aspetti le liste d'attesa e i pronti soccorsi. Abbiamo bisogno che lo Stato liberi le professioni, ovvero abbiamo bisogno di infermieri, di medici. Non c'è altro settore come quello in cui le graduatorie si esauriscono. Prioritaria anche la realizzazione della stazione dell'alta velocità. Io sono assolutamente convinto che occorra una stazione media Etruria. Se volete, come la penso da uomo politico, ritengo che sia ragionevole la stazione di Rigutino perché offre l'interscambio tra linea lenta e linea veloce, offre le condizioni di dare risposta nell'area sud della Toscana, al luogo dove è concentrata più popolazione. Sanità, infrastrutture e anche aree interne sono proprio i temi evidenziati dal presidente della provincia. Adesso stiamo facendo i lavori della parte del ponte provvisorio, quello sommergibile, in realtà si tratta di un guado, ma dobbiamo trovare le risorse per fare quello definitivo. Dunque, da questo punto di vista, sarà una richiesta che farò al presidente. Nota politica, infine, assente la Lega, critica sul fatto che Gianni sia stato ricevuto in una sede istituzionale per una relazione politica. Ora riprendiamo dalle pagine della Nazione di Arezzo per parlare dell'avvertenza chiusa alla FIMER, cioè il sigillo del Tribunale di Scoverde al piano McLaren, pagati gli stipendi ai lavoratori. E poi andiamo nelle pagine interne per un allarme che arriva da Giotti, il presidente, Roberto Giotti, il presidente di Federfarma Arezzo, che dice che siamo senza antibiotici, può che le medicine per i bambini, la situazione più grave è per l'amoxicillina, scarseggiano i medicinali prescritti per i più piccoli. C'è poi anche la replica della ASL, un anno e mezzo per l'ecodoppler, il caso che era stata la segnalazione che era arrivata direttamente alla nostra emittente Teletruria da parte di una cittadina aretina che aveva prenotato l'ecodoppler e le era stata prescritta per il 27 dicembre 2024. La replica dalla ASL che fa sapere che dipende dal medico di famiglia nella prescrizione dell'esame non è indicata l'urgenza, altrimenti l'attesa non sarebbe stata questa. Andiamo alla prima pagina del Corriere di Arezzo che ritroviamo con l'apertura su Medio Etruria e sul governatore Gianni che sceglie appunto Rigutino e poi la fotonotizia dedicata alla maxi isola pedonale che appunto ritorna da stasera fino al 30 settembre, tutti i venerdì e il sabato dalle 19 a mezzanotte. Il Idrogeno Valle, il Comune ci riprova, il progetto per i finanziamenti europei dopo Prada e 1R c'è anche l'adesione dell'Enea, sono previste produzioni, stoccaggio e distribuzione, l'assessore Sacchetti dice sarebbe una rivoluzione copernicana. Adesso vediamo un altro servizio che riguarda l'agevolazione, l'accesso al credito e ai servizi bancari, questo è lo scopo di un accordo che è stato siglato tra CNA e Biper. A pochi giorni da Oro a Rezzo arrivano buone nuove per gli associati CNA. L'associazione di categoria ha stipulato una convenzione con Biper per finanziamenti dedicati a condizioni vantaggiose. Per quanto riguarda i prodotti nello specifico facilita l'accesso al credito a condizioni veramente particolari sia di tasso che di spesa in funzione dei rating delle aziende, mettendo sul campo quelli che sono i prodotti già conosciuti dal mercato retino e su cui la nostra banca insiste con accresciuto interesse. In particolare il prestito d'uso nelle sue accezioni sia di breve termine che di revoca o medio lungo e anche l'acquisto dell'oro con pagamento postergato. Questi sono i prodotti su cui puntiamo e su cui sono sicuro il mercato retino risponderà con soddisfazione grazie all'aiuto e alla partnership con CNA. Dopo lo stop dovuto alla pandemia il settore è praticamente rinato con una crescita del 19,1% nel 2022 contribuendo quasi per un terzo all'intero valore delle esportazioni italiane. Il Banco Popolare dell'Etruria aveva lasciato un vuoto e Biper essendo in questo ambiente si vede si è sentito caricato di responsabilità nel continuare a fare il prestito d'uso che per la nostra città è la base di partenza. Per CNA ha un valore in più perché CNA sono piccole aziende e con difficoltà spesso riescono a accedere ai meccanismi per ottenere il prestito d'uso. Ringraziamo Biper che ci ha facilitato tutto, ha degli ottimi tassi tra l'altro. Torniamo sul Corriere di Arezzo per dare uno sguardo ai titoli delle notizie che riguardano le pagine provinciali. uniti per la comunità energetica San Giovanni Valdarno e Cavriglia al lavoro per individuare aree comuni dove realizzare impianti fotovoltaici. Poi i comuni al vuoto. Ecco le schede Capolona, Caprese e Laterina Pergine alle urne il 14 e il 15 di maggio. In Valdichiana invece a Cortona il Maec che inaugura le sale egizie. Molte le donazioni risalgono ai tempi dell'arcivescovo Guido Corbelli, delegato apostolico per l'Arabia. Invece a Sansepolcro, per una notizia che riguarda la sanità più servizi per sette comuni, è stata siglata la convenzione con la ASL Toscana Sud-Est, rappresentata dal direttore Antonio D'Urso, per coordinare e integrare le prestazioni sanitarie, per migliorare in termini di efficienza e di qualità. In Valtiberina con l'estate che arriva in anticipo, sarà un mese ricco di appuntamenti, si inizia venerdì 12 con il ritorno del festival dello street food a Città di Castello. Rimaniamo a Città di Castello per una moto rubata e due denunce. Un uomo e una donna sono stati individuati dai carabinieri, il mezzo è stato ritrovato e appartiene al pilota Tifernate Lorenzo Zanelli. Infine la notizia che riguarda il maggio ricco di eventi a Città della Pieve cambia la viabilità in centro con le strade e le piazze che saranno interessate dai divieti di sosta e circolazione per consentire lo svolgimento delle varie iniziative in programma. E così concludiamo anche questo appuntamento per questo venerdì 5 di maggio con la nostra rassegna stampa. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata con i programmi di Teletruria. Grazie a tutti.